finale vediamo ancora arrivano le maglie della GB la maglie della Paul Cantu GB Junior Team passa ora a condurre dopo essere entrato Cristian Sanfilippo, atleta occhio da tenere sott'occhio anche lui molto in condizione in quest'ultimo momento gruppo che si di nuovo si va a ricompattare adesso sono le maglie ancora della Fagnano che provano a fare l'andatura, gli atleti della Fagnano nuova che stanno provando, è un drappello che avrà una quindicina di atleti, non di più adesso sempre le maglie del team fratelli Giorgi Ludovico Mellano che prova a forzare l'andatura, arrivano anche le formazioni dell'Unione Cirisca Piasco nelle prime posizioni loro hanno ad esempio Giuliani che nell'arrivo a Castelnuovo Magra è riuscito a fare la differenza in salita Mellano ad anticipare veramente il gruppo, a fare l'andatura sul gruppo, potrebbe essere un corridore di riferimento potrebbe essere assolutamente siamo ormai nel finale a 6 km dalla conclusione con un drappello di corridori, questo vi vedete da Alessandro alle sue spalle, corridore della formazione del team Giorgi Thomas Bernardi poi piano piano via via anche tutti gli altri però possiamo dire un drappello che si è infoltito in questo momento sempre le maglie è sempre Sanfilippo in questo momento prova Cristian Sanfilippo a partire in questo momento di rimessa per provare ad anticipare quello che potrebbe essere un arrivo in volata Cristian Sanfilippo sempre lui siamo ormai 4 km 4.000 metri alla fine di questo quinto trofeo città San Damiano d'Asti Memorial Luigi Sacchetto e vediamo che stanno si stanno adesso si viaggia in doppia fila può darsi che si siamo messi un po' nell'ottica che si potrebbe anche atleta della Bustese Olonia sembra la sagoma di Santiago Basso il figlio d'arte perché ricordiamo figlio di Ivan Basso sta iniziando un po' piovere sulla corsa sono venuti via un drappello di corridori li vediamo Raschi è il corridore del team Fratelli Giorgi vediamo Raschi del team Fratelli Giorgi risaliamo anche poi vediamo Della Fagnano Belluschi Belluschi Della Fagnano Raschi gruppo che è un po' distante ed è proprio Santiago Basso della Bustese Olonia lì davanti figlio d'arte lo dicevamo figlio del due volte vincitore del Giro d'Italia Ivan Basso lì davanti con il drappello dei corridori vedremo se questo drappello riuscirà ad andare anche le maglie una maglia della Brunero non siamo riusciti ancora a capire di chi si tratta del corridore della Brunero e il corridore della Monte Corona tre stiema il gruppo è dietro il gruppo è in fila indiana veramente ormai siamo negli ultimi 2000 metri quindi meno di 2000 metri dalla conclusione quindi possiamo dire che adesso questo è Belluschi il corridore della Fagnano Nova che sta provando a fare l'andatura chiede il cambio gruppo che è lì non è distantissimo sarà un finale veramente incredibile e soprattutto eccitante per vedere chi si aggiudicherà a questo quinto trofeo città di San Damiano Dasti gara organizzata come abbiamo detto dalla ASD Steg che ovviamente ha curato anche il gruppo del Motoscorta è sempre l'atleta della formazione della Fagnano sempre il corridore della Fagnano Belluschi che sta provando a venire via ma il gruppo è lì possiamo dire che è sfilacciato tutto ma sta provando a rientrare non manca molto veramente potrebbe essere comunque che loro ce la possano fare chissà su questa rotonda perché l'immagine ma altri due atleti si sono staccati dal gruppo e adesso l'atleta della Monte Corona l'atleta della Monte Corona che prova ad uscire in questo momento dovrebbe essere Cristian Vedovelli è proprio Cristian Vedovelli con Re con Raschi Vedovelli e Raschi che provano a verir via forza l'andatura Vedovelli il corridore della Monte Corona che era in quel drappello e adesso parte ora Raschi parte ora Edoardo Raschi il corridore diretto da Leone Malaga parte in questo momento il corridore già una vittoria per lui quest'anno sei vittorie del team Fratelli Giorgi vediamo riesce a lasciare sembra che lasci sul posto il corridore della Monte Corona siamo ormai vicinissimi ed eccolo lì il finale vediamo Edoardo Raschi ormai prende gli applausi Edoardo Raschi del team Fratelli Giorgi si aggiudica a questo quinto trofeo San Dam città di San Damiano Dasti Memorial Luigi Sacchetto in seconda posizione Cristian Vedovelli e terzo Andrea Godizzi rispettivamente Montecorone e BS Carrera quarto Mellano quinto Guglielmi sesto Lorenzo Basso settimo Tommaso Quagli ottavo Cristian Sanfilippo nono Niccolò D'Alessandro e decimo Santiago Basso tra i più attivi possiamo dire il figlio d'arte ma anche Sanfilippo bravissimo questo piazzamento un'ennesima prova incredibile anche questo quinta edizione ha dimostrato di come è cresciuta questa corsa poi un arrivo ripeto così bellissimo vediamo altri arrivi la formazione del team Fratelli Giorgi si è mossa benissimo si è mossa in maniera forse arrischiato un po' forse arrischiato però ha saputo muoversi nel momento giusto soprattutto Raschi al secondo successo in questo 2024 il settimo sigillo per la formazione della Giorgi si sono mossi alla perfezione peccato Vedovelli è rimasto quando è partito Raschi Vedovelli è rimasto sul posto non ce l'ha fatta a seguire la rabbia la determinazione è stato un finale eccezionale un finale che qualsiasi tipo di corsa forse vorrebbe poter assistere a un finale del genere con un vincitore d'eccezione con in terza posizione il corridore della BS Carrera che insomma ha fatto comunque anche la BS non si è vista però Godizia è riuscito a prendere la terza piazza noi ancora stiamo vedendo gli arrivi e non ci resta ovviamente dopo l'arrivo vittorioso di Raschi che stiamo rivedendo al replay con questo bellissimo arrivo lasciarvi alle interviste con i protagonisti di questa gara Edoardo Raschi bellissimo finale quanto mai incerto una gruppone che si ricompone a meno di 10 km dalla conclusione e dal cilindro esce questo tuo scatto nel finale verso il centro di San Damiano uno scatto risolutivo che ti regala un gran bel successo Sì non me l'aspettavo perché comunque ho rischiato più volte di staccarmi e niente quando poi mi sono riattaccato al gruppo sono andato dietro uno scatto questo scatto decisivo che poi dopo ci ha portato all'arrivo e come ho visto che arrivava dietro il gruppo e arrivavano i 250 metri ho deciso di partire e mi è andata bene dai la gambe ma anche la testa la capacità di aspettare di cogliere il momento giusto e la forza nelle gambe ti ha permesso di fare la differenza sì sì certo l'ho studiata molto perché non volevo prenderla troppo lunga però diciamo l'ho studiata bene Cristian Cristian Vedovelli dal Trentino a un passo dal successo vi è scappato letteralmente questo raschi e nulla avete potuto fare se non ovviamente giocarvi il secondo posto sì a meno 500 metri sono partito mi sono fatto un po' fregare ero convinto di averlo staccato da ruota invece a meno 300 un po' prima della curva mi sono visto solo passare e poi ho continuato per almeno raggiungere il secondo posto forse senza respiro poca pianura tutto sali e scendi molto nervosa sì però sono i percorsi che mi piacciono i sali e scendi e quelli proprio dove c'è poco da respirare e quindi è un percorso che si addiceva alle mie caratteristiche diciamo quindi dal Trentino al Piemonte ne valsa la pena sì dai forse è meglio raggiungere la vittoria però ci accontentiamo Andrea Godizzi PS Carrera terza posizione a completare il podio nel finale hai saputo comunque avere la tenacia lo spunto per guantare la terza posizione sì diciamo che ero a far parte del gruppo degli inseguitori e quando ho visto che dopo l'ultima rotonda avevano un po' di vantaggio ho deciso visto che la gamba era buona di imbucarmi ho tenuto duro fino all'arrivo e mi accontento anche del gradino più basso del podio appena risolto tutto questo chilometraggio finale questo strappo verso il centro di San Damiano sì diciamo che tutte le salite l'ultimo giro le abbiamo fatte davvero forti ma nonostante ciò non ho mollato fino alla riga del traguardo dai la sensazione di essere comunque soddisfatto oggi sì sì molto soddisfatto e dopo ringrazio anche i miei compagni di squadra che nonostante ciò hanno fatto anche un gran lavoro dietro penso